Mi seguo, poi torno da lei, mi seguo Emiliano, ma a tal fine le dimissioni di Renzi, che valore hanno dal suo punto di vista? Ma guardi, io non vorrei parlare più di Renzi, innanzitutto perché rischio di sembrare uno che spara sulla Croce Rossa e questo ovviamente per uno dello stesso partito non è una cosa bella. In secondo luogo, mi auguro che lui ami il Partito Democratico come lo hanno amato Bersani e Veltroni che in situazioni molto meno drammatiche di questa si sono dimessi per consentire al nuovo, e in un caso era lui il nuovo, di fare la loro parte, perché nei partiti si fa così, ci si avvicenda a secondo delle fasi storiche, non si può pretendere di mettere l'agenda anche oltre la propria fase storica.